salve a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video allora innanzitutto non vedrete la live reaction semplicemente per un motivo e non è neanche colpa mia io come vi ho detto lavoravo non ho visto la partita sarei voluto andare allo stadio avrei visto una partita non bellissima però avrei visto una vittoria del padova perché se il padova vince 2 a 0 con l'egnago segnano michael liguori e palombi simone se non sbaglio il nome scusate ne ho acquisto comunque sono contento proprio che sia già sbloccato fatto sta che arrivo a casa metto via la roba mangio perché nel frattempo anche dovevo cenare metto sky go sul tablet e vedo che non mi fa partire la partita dico perché settimana scorsa con mantova padova l'ho fatto così e invece niente vado a vedere sulla tv e mi dice dalle 6 puoi registrare l'intera partita e vedertela io ho detto a sto punto cosa serve che mi guardo la partita alle 6 del mattino e faccio la live reaction in quel momento e faccio poi il post partita e mando tutto più tardi perché il post partita a quel punto non lo potevo fare alle 8 cioè ragazzi che senso aveva cioè boh e quindi ho detto vaffanculo scusate e mi guarderò gli highlights e proverò a parlare della partita durante cioè dopo dopo aver visto gli highlights li ho visti poco fa in tv e vi posso dire ottimo due gol li abbiamo fatti non abbiamo preso gol però ragazzi la difesa non va bene è da registrare perché da quello che ho visto intanto i primi 20 minuti dominio del legnago dominio del legnago hanno avuto solo loro le occasioni e tra l'altro anche con dei lancioni ci trovevamo sempre con la difesa molto scoperta in avanti due giocatori e basta e veramente troppo sbilanciati poi iniziamo un po a farci vedere con bortolussi ottima occasione e arriva poi il gol di Liguori con un rimpallo favorisce proprio l'ex campo basso e si trova davanti al potere non si fida del destro ma col sinistro e segna un gran bel gol 1 a 0 io vi avevo detto che Fortin comunque ci avrebbe fatto un po penare perché qualche bella parata l'ha fatta sono contento per lui spero faccia una buona stagione e alla fine Mbakogu non so se è entrato perché dagli highlights non si capiva però meglio così che non ha segnato ci hanno messo in difficoltà comunque i due davanti Sviderkovski e Rocco quindi fortunato zanellati anche la difesa da migliorare come abbiamo detto io e Mustang la difesa 3 non ci convince per niente non valorizza appieno tutti i giocatori con questo modulo e ci troviamo troppo sbilanciati cioè questo era il legnago quando dopo dovremo affrontare un se non mi sbaglio l'Atalanta Under 23 il Vicenza l'Albino Leffe se non sbaglio il Pro Sesto Pro Vercelli cosa facciamo? cioè ragazzi o si migliora tanto e dico vabbè a sto punto la difesa 3 sta funzionando non cambiamo però se continua così fa fa veramente paura cioè ti è la strizza ad ogni partita il fatto sta che dopo c'è anche un'occasione con Dezzi ma lì c'è stato grande Fortin e proprio nei minuti finali contropiede Palombi va con il destro la butta dentro e chiude la partita con sicurezza ora non ricordo cosa ci sarà la terza giornata però intanto primi 3 punti portati a casa 4 punti su 6 nelle prime 2 bene bene così c'è da migliorare però intanto vittoria all'Eugamio che era fondamentale fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto mettete tanti mi piace condividete il video iscrivetevi al canale attivate la campanellina seguitemi su tutti i social e ci vediamo presto per un prossimo video ciao a tutti ragazzi e buongiorno